Uno stand dell'Enoteca regionale rinnovato quasi al 70%, Presidente? Forse addirittura di più, nel senso che quest'anno abbiamo un po' rivoluzionato la presenza dell'Enoteca regionale della Liguria a Vinitaly. Ci sono 130 etichette, una ventina di aziende presenti fisicamente, ma ne rappresentiamo ben 75, dando una panoramica completa di tutte le otto dopo della Liguria. Lo stand è davvero ribaltato, direi, rispetto a quello degli anni precedenti e credo che stia dando qualche frutto già nella prima giornata. Da 3-4 anni si assiste, come dire, ad un incremento anche delle vendite all'estero del nostro vino. Le risulta? Sì, posso confermare da quanto mi dicono gli operatori, i produttori stessi, i Liguri, pur essendo piccole produzioni, piccole cantine, hanno una qualità e una capacità di vendersi, diciamo così, anche all'estero, che sta migliorando molto negli ultimi anni. Ci vorrebbe anche maggiore attenzione, possiamo dire, da parte degli albergatori o ristoratori per promuovere i prodotti Liguri? Questo è uno dei temi principali, sì, perché al di là di andare all'estero, la cosa fondamentale è avere un mercato italiano, che chiaramente consente, come dire, la quotidianità dello scambio, della vendita del vino. E da questo punto di vista, negli ultimi anni, diversi passi in avanti li abbiamo fatti, ed è il tema però sul quale dobbiamo lavorare ancora di più nel prossimo futuro. E nello stand dell'Enoteca regionale, Fisar quest'anno ha trovato la sua giusta collocazione, è la prima volta? È la prima volta che siamo partner ufficiali e unici dell'Enoteca regionale, quindi della regione Liguria. Abbiamo avuto altre occasioni in cui essere presenti allo stand per delle degustazioni guidate, organizzate magari dalle varie province, dalle varie camere di commercio, insomma, l'ufficialità, come quest'anno è la prima volta, è una grande emozione. E per la prima volta l'Enoteca regionale propone una novità assoluta, ce ne accenna precedente? Sì, si tratta di questo piccolo attrezzo che ci consente di registrare tutti i partecipanti alle degustazioni qui all'interno dello stand, in maniera tale da restituire, al termine di Vinitaly, un rendiconto, chiamiamolo così, alle aziende partecipanti su coloro i quali hanno assaggiato i loro vini, in maniera tale da poterli poi ricontattare, agganciare rapporti commerciali. Dall'altro lato, per noi come Enoteca, invece, avere un quadro complessivo di chi è venuto al nostro stand, chi ha assaggiato i vini Liguri e poter anche in questo caso contattare, mandare materiale, tenere, allacciare dei rapporti, perché poi a Vinitaly questo si fa. Grazie.